Un vero dramma della solitudine, una di quelle notizie che purtroppo ultimamente si leggono sempre più spesso su quotidiani e notiziari, una notizia questa volta condita anche da un pizzico di giallo. Il corpo senza vita di un'anziana di 76 anni è stato ritrovato in uno stabile in via Ferrante a Porti a Sansevero, un decesso che stando ai primi esami potrebbe risalire addirittura ad un anno fa. Classe 1941 l'anziana donna viveva da sola in una casa in un quartiere popolare ed in uno stabile indipendente col giardino. Nessuno si sarebbe accorto di nulla e a nessuno è venuto in mente perché quella donna non si vedesse da così tanto tempo. La donna non aveva figli o altri parenti. A dare l'allarme è stato un uomo che ogni giorno porta a passeggio il cane e quando passava davanti all'abitazione della donna l'animale si agitava e scavava. Così due giorni fa ha deciso di chiamare la polizia che ha fatto irruzione in quell'appartamento trovando il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione. Ma al giallo della morte della donna se ne aggiunge un altro. Da alcune indiscrezioni pare infatti che in quell'appartamento vivesse un'altra donna, omonima ma che era deceduta nel 2005. Allora cosa ci faceva la 76 anni in quell'appartamento? Perché è stata trovata morta in quella casa e da quando era deceduta? Domande al momento ancora senza risposte. Allora cosa ci faceva la situazione?